Se lascerai agli altri scegliere la tua vita facendoti condizionare, essa sarà simile a quel cespuglio che non è né carne né pesce. Avrai così rinunciato al tuo fiorire, al fiorire della tua vita. Il cielo sopra di te sarà sempre nuvolo e il sole della vita coperto continuamente. Fino a poi, poco alla volta, col tempo scendere, scendere nel tuo vivere o non vivere. Ti sarai piegato alle scelte degli altri, non facendo la tua scelta e scenderai così in quel buio tunnel che rappresenta la non vita, dove alzando gli occhi non c'è un cielo, ma ci sono muri, non c'è il sole, ci sono tubi. Sarà solo una gabbia, una prigione, una sofferenza. Forse avrai tante cose materiali, ma non la vita che è dentro di te. Allora, se lo capisci, appena lo senti, torna indietro, esci, torna a guardare il cielo, a cercare il sole, a vivere, a vivere la tua vita. Sì, sei libero di scegliere la tua vita o il tuo vivere, anche se non avrai amici, anche se non avrai nessuno o niente. Però, quando chiuderai gli occhi per sempre, saprai e sarai felice di aver vissuto veramente. Sì, 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 sì.